Venerdì, sabato e domenica, festa o piccina del Partito Democratico, con Stefano Ciocchi, che è il presidente e il segretario provinciale del PD, a parte il mangiare e bere, che è quello, insomma, ha una sagra, non può non mancare, però in particolar modo sabato e domenica ci sono due appuntamenti importanti, di grande rilievo, soprattutto quello con i sindaci dell'area del nord, dove una volta, storicamente, c'era il centro-destra. Sì, lasciatemi partire con un ringraziamento per tutti coloro i quali hanno reso possibile la realizzazione di questa festa. Effettivamente sabato e domenica avremo due dibattiti, penso, di grande importanza, sabato con Deborah Saracchiani, presidente della regione Florio Venezia Giulia, Mojza Cleva, europarlamentare slovena dei socialdemocratici, e Tania Verbat, deputata socialdemocratica del Parlamento croato, per parlare appunto di Croazia, di Europa, delle possibilità di collaborazione trasfrontaliera. Domenica, invece, avremo il nostro sindaco, Roberto Cosolini, e ho il piacere di poter dire che avremo con noi anche i neoeletti sindaci del Partito Democratico di Brescia, Emilio Del Bono, e Giovanni Manildo, neoeletto sindaco di Treviso. Abbiamo voluto invitarli perché pensiamo che, soprattutto in questo momento, vuoi per le difficoltà che gli enti locali hanno, vuoi anche per il fatto che i due neoeletti sindaci hanno vinto in città, che non sono storicamente di centro-sinistra, poterci confrontare con loro sia utile per parlare sia dei problemi, appunto, della crisi, e anche per parlare un po' delle prospettive del Partito Democratico. Senti, noi a Festa della Lega abbiamo visto anche negli anni scorsi vedere la Seganti spinare birra, e invece del PD ci dai qualche anticipazione, qualche esponente che conosciamo bene, che non so, sarà di affari civatici o qualcosa? Ma, allora, fortunatamente noi per lunga tradizione abbiamo sempre avuto tutti i nostri militanti, dai parlamentari all'ultimo iscritto che hanno dato una mano, e penso di poter confermare che anche questo avverrà anche quest'anno, anche quest'anno dal Parlamento passando per tutti gli enti locali sino all'ultima circoscrizione, come ogni anno.